ciao a tutti e bentornati su questo nuovo video di signalis oggi vi devo fare una comunicazione abbastanza purtroppo per chi ha seguito tutta la serie sono veramente dispiaciuto e costernato in quanto noterà che tra le varie pagine cioè tra i vari capitoli del gioco c'era una mancanza abbastanza pesante quella di un capitolo ovvero il numero 4 di gioco di due video fa in quanto ho avuto un problema con l'upload su youtube praticamente è successa questa cosa strana in quanto io cercavo di praticamente riuscire a risolvere quell'enigma insomma che era quello tra i piani quinto e settimo non sapevo più come andare avanti e quindi insomma me la giravo un po' tra i piani alla meno peggio e niente quel video lì uno si è detto che era molto lungo non me ne sono accorto è durato due ore l'ho spezzettato in due poi quando l'ho caricato su youtube purtroppo mi sono dovuto mi sono accorto che praticamente c'era una mancanza che era quella della della del video appunto mancava il video e quindi sono dovuto cioè in realtà l'ho fatto l'ho editato e tutto l'ho pubblicato su youtube e poi stranamente youtube non me l'ha approdato tutto diceva che me l'aveva approdato proprio quando sono andato a continuare così per caso stavo approdando un altro video ho visto che mi diceva che questo che col video era mancante quindi praticamente è successo qualcosa che mi diceva che aveva caricato tutto invece a quanto pare aveva finito di caricare oppure mi sono sbagliato io magari ha caricato un altro video invece di quello e avevo dato per buono che aveva caricato quella parte invece non l'aveva assolutamente caricata quindi niente quindi ci siamo vi perderete manca quel pezzo però ve lo dico ragazzi non è successo praticamente nulla di particolare proprio perché stavo gironzolando la meno peggio per cercare un po' un po' la quadra sicuramente vi mancheranno dei pezzi di lettura sul funzionamento di alcuni replicanti però diciamo tutte le categorie principali quelle dei protector, quelle degli amministratori, quelle dei lavoratori insomma sono tutte varianti sul tema diciamo quindi diciamo non vi siete persi niente i diari sono tutti qui quindi eravamo rimasti se vi ricordate che praticamente vi ho lasciato al diario da leggere e quindi quello di Shrine, quel famoso diario di undici pagine che non vi ho letto ancora perché insomma era stata per chiudere la puntata perché era abbastanza lungo quindi adesso ve lo leggerò adesso quindi diciamo non vi preoccupate se manca quel pezzo non è successo nulla di sensazionale però mi dispiace comunque ragazzi purtroppo sono cose che succedono se vi interessa o rivederlo riscrivetemi nei commenti se raggiungiamo un numero congulo diciamo posso pensare di rigiocarlo e di ripartire da lì anche perché non ho i salvataggi adatti quindi si tratterebbe di rigiocarlo, trovare un salvataggio più o meno che si avvicina anche se non ce ne sono perché siano tutti successivi e uno è all'inizio del gioco quindi c'è da rifare tutto comunque se proprio vi interessa vederlo scrivetemi se siete abbastanza lo faccio, non c'è problema ok ragazzi intanto leggiamo il diario quindi i giorni passano e volano alla velocità della luce quindi non succede niente di che tranne questo invito che ho avuto oggi dal comandante Falke e a quanto pare era magnifico come sempre quindi molto ammirato da questo personaggio che scrive il diario un po' da tutti quindi un altro giorno è passato durante il mio meeting con il comandante oggi ho sentito strane sensazioni di familiarità quando ero seduto con lei tristemente il nostro incontro si è interrotto da una forza inaspettata oggi invece si è sentito ha sentito questa strana paranoia in questi giorni non si è mai sentito così questa sensazione non l'ha mai sentita così forte sembra un déjà vu che ho avuto nei passati giorni mentre controllavo le pagine del diario oggi ho notato che per qualche ragione inspiegabile mi sembra di aver datato i suoi precedenti ingressi nel diario di oggi insomma c'è stato un errore diciamo quindi diciamo il giorno attuale in cui scrive questa pagina è stato già scritto quindi ha fatto questo errore imbarazzante ogni giorno sembra come se l'abbia vissuto prima e ogni sensazione forte è una sensazione forte che qualcosa sta semplicemente andando fuori di posto che cosa sta semplicemente andando fuori di posto perché mi sembra di aver riempito le pagine del diario con una scrittura che non riconosco perché sono tutte datate ad oggi da quando ho perso il mio comandante di mio amato comandante finalmente ho ottenuto la mia testa si mi ha fatto tornare la mente insomma sto diventando pazzo ho paura che sta succedendo qualcosa e mi sento solo in questo se scoprono le mie note verrò decommissionato qualcosa è sbagliato la posso sentire è davvero follia quando leggo queste pagine del diario mi chiamo eventi che non sono mai successi oggi non è mai stato ancora sembra reale come se l'ho già esperito non può essere solo un errore della mente mi sento che sono già stato in questa stanza che ho già pensato questa stanza piuttosto o magari ero in un'altra versione della realtà come? non lo so forse sono ancora malato come gli altri senza realizzarlo ma vorrei non soccondere una lenta accumulazione di errori riprodotti una graduale corruzione di informazioni una storia un dismembramento si diciamo un dismembramento un lenta trasformazione con ogni riracconto come un materiale generico mutato genetico mutazione ed evoluzione come la mente di una replica copiata sopra e sopra un 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 template datato un modello datato non lo so ma devo ricercare fuori la risposta è qui sotto posso sentirlo qualcuno o qualcosa mi sta chiamando da lì va bene quindi questo è il diario di questo qui che sta andando fuori di testa praticamente questa replica replicante replicante ok allora adesso abbiamo con la chiave amministratore adesso accederemo alle miniere il cosiddetto allora l'accesso a le miniere la miniere controlli dell'ascensore per la miniere se lei è ancora via probabilmente qui vi ricordo che sta cercando questo personaggio di cui ha una foto che è l'unico praticamente ricordo che ha avuto dopo un incidente in cui la loro navicella si è schiantata episodio 2 liminalità so che sei qui ho già fatto questa 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 cosa l'ho già fatta insomma altre volte non sei non sei qui bello anche di spinta perisce perisce ora ch un auto es un sp quale si si tit ah che bello finalmente senza mappa una rottura di scatole veramente la mappa ragazzi questo deve essere una miniera di qualche strano minerale che assume queste forme esagonali guardate che figo cristallizza in esagoni come fosse un alberare questo invece cristallizza in quadrati questi sembrano più quadrati ragazzi forse è un errore di grafica va bene allora ah questo è il famoso fucilone che usava l'unità replica mineraria chi ce lo dice a noi ragazzi che fosse davvero così che esistono altri mondi dove la nostra razza due razze superiori hanno controllo di miniere cose di questo tipo fibra monofilamenti rischio di morte maneggiare con cura allora quindi possiamo tagliare questa monofibra senza sforzo attraverso il nostro equipaggiamento tra i sogli arti e l'equipaggiamento in un istante indossare sempre vestiti protettivi non toccare la monofibra senza un'attrezzatura protettiva ingranaggio protettivo maneggiare solo nei posti adatti nei posti luminosi si luminosi questo qua sembrano delle fibre di fibra ottica nitro express ammo chissà che arma è questa ragazzi che figo però eh questa è la monofibra allora ecco qui un vediamo vediamo che dice ciao mina non sei un protettore bene cosa ti porta qui io sono beo se sei qua sotto probabilmente stai cercando qualcosa ti aiuterei ma uno dei miei idraulici collegamenti idraulici è andato e quindi non posso muovermi è spacciato praticamente sono spacciato posso quindi tu puoi solo andare via da qui insomma non c'è nessun punto per riparare una vecchia unità come me quindi non preoccuparti ok 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 e quindi salviamo il diare di alina è peggio di quanto pensassi ognuno è sparito ha ancora trovato nessuna traccia di ester mi sembra che lei non è mai stata qui qualcosa è sbagliato con il protettore tutto qui intorno una guardia mi ha notato presto mentre schiattaiolavo fuori dall'ala medica e ha cacciato un urlo spaventoso mostruoso e insomma mi ha seguito mi ha seguito dopo di me mi ha seguito insomma mentre guardavo dietro ho visto la sua faccia e non posso dimenticarla sembra che lei sia in un incidente abbia avuto un incidente orribile ci sono i mini mining nuclear tech high security replica mina i cosiddetti mina allora vediamo un po' questo qui incenerisce e abbiamo solo un una carica forse oh ce la siamo già bruciata praticamente vabbè ehm ok ovviamente erano colpi brucianti ci portiamo questa no scusa no 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 Grazie a tutti. Vediamo. E' ancora più sotto, dobbiamo andare. Vediamo. Sono veramente tanti. Ok. Uh, anche lui. No, lui no, però ragazzi. Cazzo, lui no, lui no, lui no, lui no. Eh, dai. No, lui no. No, lui no, lui no. Cazzo, 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 no, cazzo, nooo. C'era un'altra porta della... Cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Ancora più giù. Sento il rumore dell'acqua da sotto. Sembra che non ci sia altra via. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo. Quindi lungo la costa le nuvole rompono in onde, come si può tradurre? Se la nuvole e le onde si incontrano, si infrangono, si rompono i suoi gemelli, censura, l'ombra si allunga. La notte dove le stelle nere sorgono. Le stelle scure sorgono e strane lune girano nei cieli, stranamente ancora. Canzone di... come lacrime... Canzone di... non celebrato, come lacrime non versate. Allora dovrei ancora piangere e morire. Si asciugherà e morirà. Mi chiama in un mare di carne... Diverremo uno... ma non posso tornare indietro per essere a me. ... 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 piena con sabbia per piazzare le offerte stando di fronte a questo muro ancestrale accentuario quindi offerte che offerte non abbiamo nessuna offerte il nostro corso gratuito www.mesmerism.info quindi i mosti offriranno questa santa spezia attraverso Sottolinea Attenzione, questa posta è ancora pericolosa. Quando senza il Cison cammina si apre. Uccidiamo. Quindi abbiamo finito anche i proiettili, non posso caricare niente, però almeno posso risalire. Noi, 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 noi. E' ancora. E' ancora. E' ancora. E' ancora. da un'altra parte anello di matrimonio eh 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 quindi non posso portare niente vediamo se tornando indietro ah che bello che bello che bello che bello vabbè che rief vabbè cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, scusate l'interruzione ragazzi, sono ancora vivo. Qua non riusciamo ancora a decifrare. BTH, LIV, AC, LIV, 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 ok. Ho capito, ma dove si usa quindi? Ok, vediamo un po', ne abbiamo sei. No, non riusciamo a cercare. Non riusciamo a cercare. Ok. Non riusciamo a cercare. Leave this place Sigh Non c'è scritto niente C'è un Un disegno Un numero Un numero Cosa può voler dire Un anello Finché è morta Ci separi Un numero Proviamo questo Un numero Un numero Dove siamo entrati ragazzi Questa scala Una grande bambola di legno Che può essere aperta A una base esagonale e vuota dentro Era un giocato popolare Nel paese di rotto front Sembrano delle matrimosche ragazzi Non volevo dire Siamo ancora pieni di rotto fronte Siamo ancora pieni di robe Anche qua Anche qua Anche qua Che i bamboli abbiano un significato Quindi i morti ci daranno la spezia Questa è un'altra Questa è un'altra Questa è un'altra non c'è un po' di più non c'è un po' di più Grazie a tutti. Quindi i morti ci daranno la luce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovevo scendere giù. Ragazzi. Ma veramente. Ragazzi. Stiamo scherzando. Questi me li porto dietro. Allora che faccio? Non so. Allora. 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 E' brutto questo. Brutto questo. No. Allora. 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 c'è solo da portarsi altre armi qui e basta questa qui che cacchio sta cercando di fare veramente ma l'affampanella ah dai e niente siamo morti signori siamo morti e vediamo di continuare per fortuna l'avevamo salvato e vediamo di continuare in maniera un po' più più produttiva magari io qui mi porto lo shot che è proprio poi mi porto questo vediamo di bruciarlo proprio e magari mi porto anche due munizioni intanto le finiremo vediamo di andare ok andiamo giù in questa carne guzzante questo organismo è fatto di multiple braccia ok 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 vediamo qui ok ok ci vediamo che ci serve in maniera più ottimale mettiamo magari ok Mettiamo questa revolver Ok, io qua sono più propenso al shot di Anna ragazzi Alla prossima Andiamo dai Rischiamoci alla nostra volta Perché deve essere un po' più bravi con la nera Multiple braccia Molto dangerous Ok, adesso equipaggiamo questo Non posso usare, bravo Allora mettiamo questo Dai, qui c'è però Cacchia, signore Abbiamo più munizioni Questo qui non lo posso usare Sono spacciato ancora una volta Ah no, l'ha bruciato, dai Non, 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 non Allora Allora Va bene Ragazzi Allora Qui Lei ha sistemato un po' le sue cose Qui Qui Ci tocca curarci un attimino Ehm Qua L'equipaggiamento Qua l'equipaggiamento si fa sempre più ingombrante E Non lo voglio dire Ma è sempre più difficile proseguire Quindi siamo rimasti solo noi E lei No L'ho salvato E 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 proseguiamo così un po' l'angelo sparo mi sa che è arrivato il momento di capire quel cacchio di enigma come si risolve quindi lo devo per forza interpretare per andare avanti quindi questo è un pentagono al contrario vediamo se c'è qualche cosa grazie a tutti grazie a tutti scusa questo qui scusa se questo c'ha la base salonale si deve combinare con questo e invece non li posso combinare perché invece si dovrebbe combinare su questa scena chiave salonale vediamo se ti svellerà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti qui le possiamo trovare praticamente tutte possiamo provare grazie a tutti 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 non so grazie a tutti grazie a tutti per tutti grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti